ciao a tutti da male e martin dopo che abbiamo ammazzato il boia ciò non è solo se andiamo avanti cioè stiamo andando avanti comunque scusate se si vede male dalla grafica olé ma non possiamo parlare cosa stava andando a se lo sto accadendo ma come vedete la crisi abbiamo comprato la mitraglietta la scena la domanda marzo al 5.1 4 migliori aspetta la legge non c'entra la bomba l'occhio che è la roba la bomba ok siamo pronti e andiamo avanti sotto eeeh boh ma adesso non lo vado chiedo ai presso come vedete abbiamo la pistola la mitraglietta io la chiamo mitraglia mitraglia bomba e bomba bambina nessuno il film troppo il posto la storia infatti per il nostro salvamento non abbiamo voglia l'avevo spiegato bene ora prendiamo la municina della pistola prendile 10 ovviamente Ogni volta che Ale prende delle munizioni Gli ne viene dieci E a me cinque Non si sa come va però non fa niente Non so quando ma faremo anche un video Visto che abbiamo la Cold Edition Di precedente Coleremo E... Ma che ne so Sta ballando Boh è a shot Faremo dei contenuti aggiuntivi Della Cold Edition Come E il cupo sotto uscita E una foto disperata E' shot e diretto Come avete visto Scema stava terminando E c'era una chiave E' shot Quella c'era un'e' shot Ah mi hanno detto che In queste cose Posso trovare i miei progetti E' altri dieci Boom! E' shot Quella c'era un'e' shot Ma donna questo sentito quanto urlato Ma chi è decente? E' il capo dell'allà come si chiama Oh cavolo Oh ma che cavolo Grazie Mori Qua c'è stato un'altra cosa Aspetta Stasera Eh oh almeno da me la medicina è 71 E' mo' se nata il settore da il settore da il settore Prova Oro Oro bello Dopo ragazzi vorrei Proveremo a comprare E' il giubbotto mischia Ma non ci vediamo Guarda quanti si è distanza Vai 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 Beh però se prendiamo Cioè se ci sta qualche tesoro Allora io rimango qua a aspettare Vabbè Non sempre Che ha qua? No qui non c'è niente Vai avanti devi andare là Salta Dai venite Alte munizioni di litro Eh Ecco Chiave Ok Del vecchio edificio Penso Penso che c'è Per prendere pompa E' pompa E' fuggila pompa Che ne sai Io questa già l'ho fatta Fermi va bene l'ho fatta Grazie Che fuggila pompa Penso l'icca Allora Oh cacchio Eh shot Oh Di nuovo scusate la grafica Eh shot Cioè si vede chiaro Eh shot Ma è sparata anche tu Ale Oh dai però Grazie Ma è sparata anche tu Non è morto Ora si Oh è shot Ora piccola Diretto Che c'è? Bomba Incendiaia Ok C'è un cacchio Una cassa E' son di sopra Alcosa Aspetta Tu prendi la cassa Dov'è? Faccio il giudice Non puoi entrare Allora andiamo qua Prendiamo l'oro Andiamo di sopra C'è un fucile E se è un fucile Magari Qua c'è una cassa Perché? Perché? Perché è entrato l'acquano Sì Ah bello uno spremerico Questo si che serve Dove sei? Bella Eh shot? Ti ricordi proprio il memore Sto livello Eh shot Ti ricordi che erano quei cosi? Si erano Ah gli emblemi Eh gli emblemi Però questi in questo anno Penso 30 Non lo so No 15 Sì sì penso 15 Però quelli da 30 e il 4 So che si è un filo E quelli li fanno proprio schifo Invece questo si attaccaglie al muro Molto meglio Sì ma ragazzi il 24 Ne trovi uno Ne trovi i cinque Eh ah ah tipo una stanza Ne trovi i cinque Ok Grazie per il spray medico Niente Qua una ragazza bionda Che chiede aiuto E Shepa e Chris Non sanno cosa fare Ma c'è una porta Vedete qua C'è il segno della chiave Chiara Apriamo E il pompa Prendiamo il pompa Qua Dei che cos'erano Monsigni Bello Apriamo Qua c'è una cassa Mi senti Qua sono una bomba Monsigni E' una bomba Penso che ci sta una gallina Una volta ce l'ho trovata una gallina Non lo stanno Non lo so Dai eh E' se gli tiro la bomba da qua Non lo so Non lo so Però penso che ci sta la bionda là Si è vero Ecco Coraccia Ma che è cambiato il colore del vestito Ad esempio il stesso Boh Attento Chris Che schifo regà Faccia Chris No no Oh Utilizziamo subito la bomba Aspetta ferma Bomb Crepata Esplosa Sì E abbiamo preso il cammè Una cosa Oh cammè Non mi ricordo Mo qua viene uno E gli tiriamo un'altra bomba BOM Crepato Andiamoci Oh hanno già aperto Eshot Diretto Va bene Ah bello Non è una santa Ben nuova Oh cacchio Ci penso io E' un po' più Ma me è che alla Nolla Chiva piano Ma io No Oh cacchio Oh ma la una cosa è per pompa Non andate Che so qua eh Oh ciccio e ora non sbrigati a finire e noi dobbiamo cantare e se tu ti sbrighi alle possiamo far con il siamo qui carichiamo la pistola andiamo a musicare andiamo 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 oh la c'era pure un buco potremmo passare in con on back gioco amore aspetta da un attimo finito quanto ci vuole poco allora dobbiamo passare per qui come avete sentito prima c'è stato uno che urlava speriamo che non ci stavano facendo niente aspetta aspetta c'è la scritta etamina eseguiamo ma non si tratta di più caldo ancora qualcosa non è fango attento come fa mi lascia a me e la quella mediano ricordavo perchè l'ha fatta un amico mio sopra c'è stato un craccio guarda al lago e qui mi ricordavo se c'era un problema eccolo lì ok un attimo bene bello grazie bello non ci sto buono foro dai corri 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 che dovrà andare andando in angolo di corri 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 ok scusate ma facciamo il video perchè ci devono sbrigare, poi dopo intanto lo spieghiamo allora c'era una persona della squadra alfa che ci dà delle informazioni su Irving stava una persona della squadra alfa che ci dà informazioni su Irving stava guardate e quale è in là dove sta? eccola non viene stai solo dentro stava guardandolo della cucina te ne vedi con? eh? io vado subito perchè no no scusate se lo prendiamo qualche cazzo anzi intanto tu vado la fornace no no vai 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 e la costa è lì vai vieni ok ok scusate se l'abbiamo fatto ah scusate ha perduto è uro boro su quello praticamente avete visto quella dai vieni 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 si 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 fai ecco scusate ma dobbiamo dobbiamo sbrigare mi metto a shoe wait come il st scusate se saltiamo anche l'ultimo filmato tra poco però lo spiegheremo nel prossimo episodio dai e mori con il morto ok marco da dare a dare per cambaccio ma quantità l'administrativo ok io andiamo le municili che incontriamo apriati cori 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 c'è l'amorto tutt'ora spettacoli qui c'è un emblema ok scusate al prossimo episodio ok ciao a tutti da Ale e Matti